Che con l'arrivo dell'estate le problematiche od origine rilanciate più volte dai cittadini sangiovanesi sarebbero state aggravate era purtroppo testimoniato anche da questo stesso periodo un anno fa. Ma negli ultimi giorni per la zona oltrarno e viale Gramsci di San Giovanni i miasmi sono stati diversi ed hanno avuto più di un'origine ma apparimenti fastidiosi verso i residenti. Negli ultimi giorni di giugno infatti, soprattutto nel tardo pomeriggio, sono stati avvertiti odori di bruciato di alcune sostanze bituminose. A luglio 2010 la colpa di tale medesima problematica fu data ai lavori di risistemazione del manto autostradale della vicina 1, anche se il comitato vittime di podere rota allora come adesso punta il dito verso un'azienda nel comune di Figline che produce asfalto. Ieri notte invece nuove segnalazioni provenienti dall'impianto di smaltimento divenute purtroppo una sorta di routine. Non c'è pace quindi per quella zona anche se il comitato vittime non sembra per il momento avere in mente mosse ufficiali. Il prossimo appuntamento intanto dell'osservatorio su podere rota è fissato per il 27 di luglio quando saranno coinvolti anche tecnici del centro di geotecnologie per ulteriori studi atti sia a limitare gli odori che a migliorare la gestione delle varie fosse all'interno dell'impianto di CSAI.